Raffaele Cinquegrana, Andrea Facchinetti, Console Generation Raffaele Cinquegrana, Andrea Facchinetti, Console Generation Cari appassionati, console maniaci, consolari, come si può dire Raffaele, ci sono tanti nomi Bentornati su Console Generation Live, mezz'oretta insieme a parlare di videogiochi Con il podcast che fa dei videogames a casa sua Con il podcast che crea l'atmosfera Questa sera con questa voce così suadente Andrea perché sei stanco di la verità, non ce la fai più Andrea è alle canne, ce ne la cassa la morto Ho fatto una notte un po' così anche con un po' di allergia perché è il periodino e quindi ero conciato Ogni tanto sono conciato anch'io Raffaele Io sono Reduce da Napoli, Andrea è Reduce dalla diretta di Game Time, un'oretta e mezza proprio a parlare quasi ininterrottamente Adesso un'altra mezz'ora a parlare però in radio Ma quanto ci piacciono i videogiochi? Troppo! E quindi ci fanno fare le ore piccole, ci fanno andare in giro, ci fanno dormire poco Però a volte ci danno tante soddisfazioni Ma quanto tempo serve per seguire questa passione così come si deve? Però vabbè dai, noi ce la mettiamo tutta Siamo sempre puntuali più o meno oggi con qualche minuto di ritardo Però in ogni caso ogni venerdì non se ne salta uno Io avevo detto ad Andrea, Andrea dai magari lo saltiamo questo venerdì Visto che io torno da Napoli tardi, tu sei impegnato eccetera E Andrea fa, no, la facciamo, non si preoccupare Ma perché deve saltare? Ma noi ci coaudiviamo così Ma basta parlare di noi, parliamo di voi, parliamo di videogiochi Perché comunque oggi è la puntata del 6 maggio 2016 E che cosa abbiamo? Abbiamo la prova incrociata di Raffaele e la mia per quanto riguarda Star Fox Zero Poi le news, le curiosità del momento, la bomba della settimana Raffaele ce l'abbiamo, la Resident Evil Curiosity Ma direi di no, per due volte consecutive non ce l'abbiamo Questi zombie non stanno facendo il loro dovere Va bene, non importa, andiamo avanti Perché tutto questo è con i vostri commenti in chat, in diretta Dove noi, Raffaele, abbiamo già i nostri amici che ci aspettano E meritano il saluto al volo Eh sì, 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 sì Allora abbiamo Marco, Rino, Pasquale Poi abbiamo ancora, dove aspetta che è? Ale, poi aiuto, Rugger Ma perché questa chat non rimane ferma? Andrea me lo spieghi perché non rimane ferma Gallerina, al frame rate che non è giusto Scusatemi se non vi ho salutato tutti Alessio, ecco qua, tra l'altro già che stanno parlando del nuovo Battlefield Ma qui non anticipiamo quella che è la bomba della settimana Eccola lì, l'ha già detta Eh vabbè dai, oppure, 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 oppure altri commenti qui in chat Si danno appuntamento dopo su Dark Souls 3 e altro ancora Ma soprattutto Rino che dice Niente diretta video questa sera Beh, non abituatevi così frequentemente C'è stata già la diretta di Game Time Quindi noi ci rilassiamo un pochettino Tanto il video nel frattempo lo pubblicheremo probabilmente nei prossimi giorni su YouTube e su Facebook Quindi non andiamo in diretta, andremo in differenza Salutiamo tutti gli amici comunque, come sempre, anche in video poi quando ci rivedete Ciao amici, va bene Allora, il tema di Gael era quello che ha aperto la puntata di questa sera Proprio da Street Fighter V Un reprise, Raffaele, che riprende il tema di Gael Che dicevamo poco fa, prima di partire in diretta Che Gael, bel brano, il personaggio è fatto bene Però da usare non ci piaceva tanto No, decisamente, decisamente Io ero più da Cionlì A me piaceva Ryu e Ken Ah, sul classico Su tutti mi piace Goki o Akuma, che dir si voglia Mi piace tanto Che comunque lo stile è sempre più o meno quello di Ryu e di Ken Certamente, al quinto anno consecutivo siamo in diretta Tutti i pomerdi senza soste, con fatica Perché potrete capire quanto ci impegniamo Alle 22.30 su Spreaker Gli originali, difidate delle imitazioni, occhio al tarocco E ci trovate anche tramite le applicazioni mobile Che Raffaele finalmente torna a ricordare E vabbè, allora, le applicazioni al solito Cercate Spreaker, cercate Console Generation Su Facebook, su YouTube, su iTunes Mi han detto oggi che ci trovate anche su podcast Com'è che era? Podcast Maniac o qualcosa del genere Siamo un po' dappertutto, va bene Poi, se volete scriverci Non lo fate mai Ma noi ve lo diciamo tutte le settimane Info.consolgeneration.gmail.com E Twitter invece Chiocciola.consolgenerati Non lo fate mai perché ci contattate tramite Facebook Ormai si sa che Facebook è un po' La piattaforma principale per comunicare un po' con tutti E anche con Console Generation Vabbè, ma poi Twitter Il nostro account di Twitter si trova in un parcheggio in disuso Praticamente in un'auto che ha preso fuoco E lì c'è il nostro accesso a Twitter Perché ce l'abbiamo ma non si muove così tanto Perché no, no, no Ribattiamo le puntate ma non abbiamo tanta interazione Però ce l'abbiamo, lo diciamo sempre Senti Raffaele, possiamo andare subito con una prova Che abbiamo fatto La chiamiamo la prova incrociata Perché ci abbiamo giocato tutte e due E andiamo a tirare le conclusioni su questo Star Fox Zero Che arriva per Nintendo Wii U Dopo un periodo di preparazione, di lavorazione Che ha avuto un po' di noia Raffaele Perché sappiamo che è partito in un certo modo E poi per fortuna Nintendo ha ingaggiato Platinum Games Quelli di Bayonetta Per rimetterlo in sesto E allora che cosa... Iniziamo da te Dai Raffaele, partiamo un po' Introduci tu al gioco E poi ti vengo in coda La partenza è stata veramente molto lenta Nel senso che l'avevamo provato Ti ricordi, almeno l'avevo provato Io non mi ricordo se tu l'avevi provato No, la beta no E c'era questo gioco che sembrava una cosa davvero Diciamo più che... Spigolosa Sì, più che spigoloso Dicevo un po' malforme La grafica non convinceva Il sistema di controllo non convinceva Insomma, non era proprio un gran bel vedere Hanno contattato i Platinum Games C'è da dire che Correggere il tiro di un gioco Che ormai aveva una certa impronta Non è mai facile E allora ti dico Andrea Le cose che mi sono piaciute di questo Star Fox Anche se qualcuno l'ha criticato Ma spieghiamo cos'è proprio Ah, va bene Qualcuno non sa magari cos'è Star Fox Star Fox arriva da lontano A vent'anni Nasce su Super Nintendo Super Famicom La versione giapponese che ricordo Ed è un gioco di combattimenti spaziali Con astronavi prevalentemente Un po' come Star Wars Questo è Star Fox Perché il protagonista è una volpe E appunto Fox McCloud Che ha avuto un solito passato un po' travagliato Il padre si è sacrificato Per riuscire a salvare un po' il loro mondo Eccetera eccetera Ma arriva il momento In cui potrà avere il suo riscatto E potrà riscattare quindi La memoria del padre E allora È uno sparatutto Fondamentalmente Con Dei velivoli Oppure con dei veicoli Che tu puoi controllare E che si muove attraverso diversi stage Sono se non sbaglio 8 o 9 Più le biforcazioni Perché sappiamo che si possono sbloccare Alcuni stage che non si vedono nella mappa Ma questo è proprio nel DNA Fin da 20 anni fa appunto di Star Fox E viene vissuto un po' come Una specie di reboot e remake Nel senso che la storia è molto simile A quella che è stata Il vecchio Star Fox 64 Con giusto qualche miglioria Qualche aggiunta qua e là Però proprio per non farlo identico Identico Chiaramente una delle Delle più grandi modifiche Rispetto al passato È stata la grafica Sì Certamente Perché può sfruttare Una Wii U Che è sicuramente Più moderna Rispetto al passato E però chiaramente Ha anche dei limiti Perché non possiamo pretendere Di avere Un confronto Con le Nella parte Hardware Proprio Delle macchine più recenti È stato fatto un buon lavoro Raffaele Secondo me A livello grafico Perché il gioco Si È dinamico È rapido È veloce Le astronavi Su schermo Ti appaiono da tutte le parti E ti muovi liberamente Con una certa frenesia Che riprende quella natura Un po' arcade Che ha il gioco All'epoca È vero Forse i polivoni Non sono tantissimi Raffaele Perché Dobbiamo appunto Tornare a parlare Di Nintendo Wii U Che magari Da gestire Tutto quello Sullo schermo Deve scendere a qualche compromesso Insomma Sì Però tutto sommato Alla fine Sai che ti dico Che il suo impatto Ce l'ha È molto coerente Da vedere Non è il gioco Che magari ti stupisce Però mantiene Una fluidità Più che buona Sui 60 fotogrammi Al secondo Con ogni tanto Però Qualche calo Non è esattamente stabilissimo Sai quando Quando ci sono Le astronavi gigantesche Che esplodono E ci sono tanti Oggetti Intorno Magari Qualcosina Può rallentare Ma non va A discapito Nulla di particolarmente Fastidioso Vero Ci sono però Altre cose fastidiose Io vorrei Subito Prendere in esame Quello che poi È anche la grande novità Di questo gioco Però ti posso Solo fare Solo un appunto Dobbiamo ricordare Agli ascoltatori E chi non conosce appunto Star Fox Che in mezzo al primo Star Fox Di vent'anni fa Raffaele mi invita A avvicinarmi un po' di più Al microfono Giustamente E questo Star Fox Zero Sono passati altri titoli Dobbiamo ricordare Per esempio Quello appunto Per Nintendo 64 Ma poi su Gamecube Uscì Star Fox Adventure Che era appunto Un gioco Un po' diverso Che aveva Qualche momento Appunto Di combattimenti spaziali Ma alla fine era Un gioco in terza persona Era un Action RPG Fondamentalmente Che tra l'altro Mi era piaciuto particolarmente Ed era sviluppato Dai Rare Che avevano preso Un gioco E poi avevano appiccicato Sopra Le fattezze Dei personaggi Di Star Fox E poi è arrivato Star Fox Assault Sempre per Gamecube Che non era niente male Riprendeva appunto Un po' questo filone Di Star Fox Di combattimenti frenetici Però Non ha lasciato il segno Come in passato E ce l'ha fatta Questo Zero Andiamo a vedere Con queste novità Che stavi per Hai fatto questo lungo preambolo Eh sì 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 Per introdurre una cosa Perché tu magari Li hai vissuti Li hai giocati Allora Hai questa memoria Io purtroppo Diciamo che Star Fox Lo ricordo appunto Soltanto per Star Fox Adventures Non ho giocato i primi Quindi parto Da un punto di vista Senza nostalgia Senza l'aspetto nostalgico Non sono un fan particolare La grande novità Di questo gioco È che Come appunto Avevamo visto Anche con La vecchia anteprima È che il sistema Di controllo È ibrido Voi vedete Sullo schermo del televisore L'astronave Vi sta da dietro Potete controllarla Manovrarla Su alcune sezioni Che sono Diciamo sui binari E altre invece Dove siete Completamente liberi Di muovervi All'interno dell'arena E poi sul gamepad Perché ricordiamoci Che il Wii U Ha anche uno schermo Sul gamepad Vedi il cockpit Come si dice Vedi la plancia Dell'astronave E quindi vedi il mirino Ti serve per mirare Esatto E allora Si entra in una Si entra in una Diciamo così In una meccanica Di gioco Dove tu devi Idealmente Secondo gli sviluppatori Continuare a cambiare La visuale Continuando a guardare Un po' la televisione E un po' il gamepad Un po' la televisione E un po' il gamepad Un po' la televisione Un po' il gamepad Un po' la televisione Un po' il gamepad Un po' il gamepad Un po' la televisione Un po' il gamepad Un po' il gamepad No beh Aspetta C'è da dire Che poi se premi Il tasto meno Puoi vedere Sempre il cockpit Anche sulla tv Però E non capisci dove vai Però E ti perdi E non capisci dove vai Ti perdi L'azione Diciamo Con la camera Da fuori Astronave Perché non riesci A manovrare Nel frattempo Bene L'astronave E quindi Cosa fai Premi il tasto meno Per tornare Con lo schermo normale No State sentendo Cari ascoltatori Il sistema di controllo Nonostante Si chiami Nintendo Nonostante Si chiami No Platinum Games Nonostante Si chiami Shigeru Miyamoto Mi dispiace Ma è una vera Schifezza L'astronave Si controlla Da schifo La mira Si prende Da schifo Vi fa tirare Tante di quelle parolacce Questo gioco Che neanche Dark Souls Ma proprio perché Non è difficile il gioco È complesso È inutilmente complesso E questo Non capisco Di alcuni Altri colleghi Che hanno recensito Il gioco Dicendo che Il sistema di controllo Si è difficile Però una volta Preso la mano Diventa Il gioco più bello Perché è l'azione Frenetica E tutto Ragazzi Io l'ho finito E è rimasta Una monnezza Nei primi dieci minuti E così è andato avanti Per tutto il resto Delle sei Sette ore Che mi sono servite Per finirlo Ma se posso dire Effettivamente Diciamo Abituarsi a questo tipo Di controllo Non è semplice In realtà Appena parte il gioco Vi trovate a casa subito Perché non puoi negare Raffaele Che il primo livello Appena parti Non ti serve immediatamente Usare La camera All'interno del cockpit E lo puoi giocare E lo puoi giocare un po' Alla star fox classico Poi invece Quando cominciano ad arrivare Gli altri mezzi Che sono Dobbiamo ricordare Per esempio Il walker Che è questa trasformazione Dell'astronave di fox In un bipede Che corre Sul terreno E lì effettivamente Comincia a diventare Selettivo E dobbiamo ricordare Raffaele Che ci sono Hanno introdotto Più mezzi E quindi Hanno alzato In questo caso La tua difficoltà Di abituarti Scusami Al controllo Perché poi c'è appunto Landmaster Che è una specie di carro armato Che si trasforma Anche in una sorta Di veivolo Però per un Un lasso di tempo breve Perché è una barra Che viene utilizzata Di energia Per rimanere in volo Brevi momenti A me è piaciuto invece Il giro wing Che è un'altra trasformazione Ovvero Questa specie di drone Si può chiamare così Sembra un drone Sembra un overcraft Un overcraft Esatto Che puoi Controllare Appunto Sull'asse verticale E in orizzontale Per muoverti All'interno Di sezioni Un po' Anche difficili Dove non Devi farti Trovare dai nemici Lasci con una corda Questo robottino Che va ad hackerare I sistemi Una cosa giusta Fatta per fare Non è che cambi Però contribuisce A rendere l'azione Un po' diversa Esatto A parte il discorso Di azione frenetica Questa è un po' più calma Un po' più ragionata E questo non mi è dispiaciuto Raffaele Sinceramente Effettivamente Non essendo fan Un punto in meno Gli lo dai Anche per questo Uno Anche due Sì Però Posso dire Anche un'altra cosa Che non mi è piaciuta Di questo sistema Di controllo È che per mirare Non è che devi utilizzare I classici analogici Perché vuoi fare Una cosa diversa Visto che hai Devi spostare il gamepad E allora immaginatevi Anche voi Cari giocatori Cari ascoltatori Che dovete tenere Sempre le mani in alto Oppure dovete Le mani naturalmente Dopo un po' Si abbassano Il mirino Si abbassa E torna in alto O io finivo Le sessioni di gioco Mi facevano male Le spalle Non va bene Così non va bene Non va veramente bene Poi devi Premi un tasto Per riposizionare il mirino E poi ti cambi E poi ti devi girare No Non si può fare Non si può Allora Io non sarò stato bravo Magari non avrò Capito al 100% Però se già un sistema Di controllo Non funziona Ragazzi Non ci siamo Ma sono d'accordo con te Che il controllo È il neo del gioco Però Non sono così cattivo Io rischio a giocare Lo stesso Raffaele Ho fatto Si un po' fatica Sono quasi alla fine Anch'io Si Quando Sai cos'è Che mi ha dato più fastidio Che devo rifare Tutto il boss Perché gli mancava Una barretta di energia E con la telecamera Mi sono perso Il punto focale E lì si Mi sono girato Un po' Però mi sto divertendo La cosa bella di Star Fox Secondo me È proprio che riprende Quella chiave arcade Ha voglia Di dare dinamicità Quella ce l'ha Quella ce l'ha E non gliela toglie nessuno Si si Poi mi è piaciuta la varietà Ve l'ho detto Mi è piaciuta anche la grafica Mi è piaciuto il suo essere Semplice E anche efficace Il bello di avere Questi bivi Che tu puoi intraprendere Per riuscire anche A vedere altre parti Del gioco Il fatto che ci sono Diversi collezionabili Insomma Ci sono tante cose Che mi fanno dire Vado avanti E infatti Sono andato avanti L'ho finito Quindi non è che mi sono fermato I boss di fine livello Fatti da Platinum Games Che sono maestosi Sono giganteschi ragazzi Dovete pensare A qualcosa di enorme Però Raffaele Si ci sono delle lacune È in dubbio Che ci siano delle lacune E beh 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 Che ti devo dire Andrea Diciamo così Non ci siamo In poche parole Raffaele La parte Amarcord Non ti tocca A me di più ovviamente È un titolo che potrebbe Migliorare i controlli Potrebbe migliorare i controlli Ma poi basterebbe anche un aggiornamento Ah beh 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 Giusto cambiare una cosa da poco Tutto il sistema di controllo Tutto l'impianto No Banalmente poter selezionare Gli stick analogici Anziché Lo spostamento Del 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 controllo Insomma guarda Che vi devo dire Io volevo soltanto però Consigliare una cosa a Pasquale Che ci scrive in chat Che dice C'è che lo provo anche io Così che se mi fa incasinare Lo lancio dalla finestra Poi dopo aver ascoltato Ancora un po' della recensione Ha detto Ok non lo provo più No Dagli comunque una chance Magari tu ti troverai bene D'altronde Ogni giocatore Fa se Io vi posso dire Che non è secondo me Un gioco riuscito Per me Giusto sulla fiducia Gli darei un 7 Ma giusto sulla fiducia Perdonami Raffaele Un po' Hai marcato secondo me Un po' esageratamente la cosa Io sono a metà Tra appunto La tua versione Quella eccessivamente Il 7 e mezzo No eccessivamente Da 8 e mezzo Da 9 Come ho letto da qualche parte Che cambia Il modo di giocare Vabbè 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 Forse è un po' eccessivo E comunque dai Cambia il modo di giocare Qui per parlare di Star Fox Ci abbiamo messo Un sacco di tempo Siamo rilassati Questa sera Vabbè Il tempo Ma no Perché dobbiamo vedere Anche altre cose Andiamo avanti Per esempio Per esempio Andrea C'è una rubrica Che ci manda Il nostro caro ascoltatore Roger Mazzini Gli annunci improbabili Gli annunci improbabili Perché ci sono persone Che al mondo Pubblicano delle inserzioni A tema videogames Dove propongono Delle offerte Delle cose Che non si possono perdere Come questa Per esempio Un Nintendo 3DS Vendo Mio malgrado Dice Con gioco Di crash Che gioco è Che vuol dire Leggere con attenzione Con attenzione La console Presenta segni di usura Ma è funzionante Allora Mancano i pezzi La foto ce l'abbiamo davanti E c'ha gli angoli Che sono completamente sfasciati Mancano completamente Esattamente Caro ragazzo Questo non sono segni di usura Questa è proprio rotta La spaccata E poi che dice ancora La fele scende un filo Perché dice Unici problemi mostrati in foto E problemi a caricare Alla presa elettrica Bene Quindi non solo La scocca è danneggiata Ma forse non si accende neanche Perché non si carica Esatto Quanto vuole questo Ah non lo so Quanto vuole Dove si vengono i prezzi Sotto sotto c'è il prezzo Questo fuori di testa Vuole 85 No 85 No no Non mi sembra Comunque qualsiasi cifra sia E no Perché era Un po' troppo Un po' troppo No non c'è il prezzo Non c'è Da dove scrive Scrive da Bogliasco Da Bogliasco Ma andiamo a vedere Questa fantastica Xbox Primo modello 2002 Perfettamente funzionante Tra l'altro c'è Mod. Mod. E modificata Secondo me Aum Aum Vendo con due giochi Joyped e cavo speciale Che permette immagini Di alta qualità Sarà stato il cavo component Sarà stato Vendo per inutilizzo A ben 50 euro Ma non si vende Allora 50 euro Però Devo dire che l'ha tenuta molto bene Perché c'è ancora la plastichina Sulla parte frontale Dove ci sono i tasti Per l'espulsione del disco E per l'accensione Bravo ragazzi Praticamente questo L'ha modificata Prima di aprire la confezione Perché è tenuta Veramente Da dio Ma Ci ha già messo le mani Vabbè 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 Quella non si vende Si tiene Dai Poi che cosa c'è Questo qui dice Allora Vende giochi Sega Mega Drive Genesis Vari titoli disponibili A partire da 3 euro e 90 Mazzate Proprio Una cifrona Tutti i prodotti sono originali Testati e funzionanti Accetto scambi Solo esclusivamente In sede a Torino Perché è di quel luogo E munito di documento D'identità Che vuol dire Cioè Perché O se sa mai Che magari arriva uno Che non ha il documento D'identità E ti fa Non lo so Magari Non lo so Ma poi guarda cosa dice Per info e orari Cash time Che cos'è Una nuova rubrica Cash time Cash time Perché praticamente Vuole solo Grana sonante Vabbè E contattare il telefono Alle ore X Ma non le diciamo ovviamente Comunque La cosa che mi stupisce È che ti dice Prodotto in garanzia Ma cosa vuol dire in garanzia Come fa ad avere ancora la garanzia Un gioco per il Mega Drive Che è stato prodotto Secoli secoli fa E poi c'è un'etichetta Nella foto Del gioco Che è Questo era Toe Jam & Earl A 6 euro E 90 E un altro invece A 3 euro E 80 Però non si capisce Che gioco sia Vabbè Comunque Si è anche sbattuto A fare l'etichetta Bravissimo Bravissimo Ma andiamo a chiudere Con un gioco appena uscito A gessate Andrea Vicino a casa nostra Per 40 euro Vendo splendido gioco MXGP2 Per PS4 Acquistato settimana scorsa Causa mancanza di tempo Per giocare Perché l'hai preso Rispondo principalmente A messaggi Per informazioni Non esitate a contattare Ma se lo compri Prima di acquistarlo Dici Ma io non ho tempo Di giocare Che cosa lo compri a fare Però è lui Ha vinto tutto Ma soprattutto Se l'hai comprato Una settimana fa Riportalo al negoziante Se l'hai comprato Da GameStop Te lo riprendono Anche indietro Vabbè 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 E magari prendi Un altro gioco E non può giocarci E poi lo rivendi Fantastico Bellissimo Chiaramente Vabbè Vabbè Ha vinto lui Ha vinto lui Allora Raffaele Che cosa facciamo Siamo a 25 minuti Un paio di news Le dobbiamo trovare Andiamo a parlare Della bomba della settimana Eh sì Poi spazio in chat Eh sì La bomba della settimana Ce l'abbiamo avuta Quasi quasi in diretta Perché oggi È stato il giorno Di Battlefield Eh finalmente Sono contento Raffaele Come si chiama Si chiama Battlefield 1 Battlefield 1 Giusto? Esatto Come lo vuoi chiamare All'italiana E di che si tratta Confermiamo che sarà Ambientato Nella prima guerra mondiale Oh mi piace Perché non lo so Già ai tempi di Sniper Elite V2 per esempio Che si tornava Nell'antica Berlino Appunto della guerra mondiale Mi piace quando ha Dei rimandi Con eventi Realmente accaduti Per quanto siano Tristi E bui Che ne pensi? Eh io penso che Abbiamo a questo punto Questa settimana Due annunci Di due sparatutto Di grandissimo rilievo Uno è Call of Duty Infinite Warfare Ambientato nel futuro E un altro invece Che l'hanno chiamato Battlefield 1 Ambientato addirittura Nella prima guerra mondiale Quindi una cosa emerge Molto molto forte Gli utenti A questo punto I giocatori Non sceglieranno più Soltanto In base al tipo di gioco Che normalmente preferivano Quindi l'azione più frenetica Di Call of Duty Oppure dall'altro Il lavoro di squadra Di Battlefield Ma strategia Certo Ma sceglieranno anche In base all'ambientazione Ho letto dei commenti Molto negativi Per esempio Per l'ambientazione Super futuristica Di questo nuovo Call of Duty Commenti che non Non condivido Neanche così tanto Anche se Diciamo come battuta La prima cosa che mi è venuta È stata Magari fanno un Call of Duty In Contra Halo O una cosa del genere Dall'altro lato invece Una prima guerra mondiale Che ritorna Quasi quasi anche A gran richiesta di fan Perché era da tanto Che gli appassionati Degli sparatutto Chiedevano un ritorno Alla seconda guerra mondiale Bene Un ritorno alla prima guerra mondiale Introduce diverse caratteristiche Dal mio punto di vista Interessanti Uno su tutti Per esempio È l'arsenale Sicuramente più limitato Perché Battlefield Vuole essere più realistico Quindi non ci possiamo aspettare Chissà quanti mezzi Chissà quante cose da utilizzare O anche Semplicemente Dei velivoli Che sono eventualmente Più datati E quindi magari Anche meno Diciamo così Meno prestanti E meno votati Alla frenesia Certo E quindi Rischia di essere Ancora Rischia in senso positivo Ancora più ragionato Ancora meno frenetico Ancora più Da governare In maniera tattica Controllando La propria squadra Guarda che tu stai Guarda che tu stai così Trasmettendo qual è Il tuo grado di interesse Per uno E anche per l'altro Però sono d'accordo Raffaele Andare a toccare Un'epoca del genere Può portare tanti benefici Perché abbiamo giocato A tanti titoli Ambientati sulle guerre mondiali Però Sulle passate generazioni Quindi perché non apprezzare Della qualità Grafica Che hanno queste macchine Abbiamo visto Tanti remaster Diciamocela pure Che magari Non avevano senso Di essere proposti E invece tornare indietro Magari fa bene Perché no Io penso per esempio Anche banalmente Medal of Honor Te lo ricordi? Non mi piaceva Fa niente Ma io oggi Rispetto a Call of Duty 2 Per l'amore del cielo Ma per dire Un qualcosa di molto datato Che magari riportato In chiave moderna Potrebbe far ancora Merita di essere visitato E allora va bene anche questo Però spezzo una lancia A favore anche di Call of Duty Infinite Warfare Perché Come dicevo prima Nella diretta di Game Time Sembra sempre che Loro Esagerano Appunto Facendo qualcosa di Esagerato Megagalattico Con queste armi Con queste cose Pazzesche Che tutte le volte Dici Caspita Hanno proprio Fatto qualcosa Di folle Beh Tutte le volte Ci giochiamo Ci divertiamo Salvo qualche Qualche caso Che ci può stare Però Questo trailer Che vanno L'abbiamo visto tutti Anche nello spazio Dico Hanno esagerato ancora di più Nettamente di più E forse mi divertirò ancora Ma io Io ti dico che Il fatto di prendere Proprio questo Per partito preso Che Call of Duty Deve per forza fare schifo Io credo che sia Veramente una cosa Ormai da lasciare indietro Ma no E lasciare Soltanto quelli che vogliono Semplicemente alimentare Queste guerre Poi fa talmente schifo Che lo comprano tutti Ha dei numeri di vendita Pazzeschi Poi A uno può non piacere Ma questo è un altro discorso Torniamo al nostro Battlefield Fra le varie mappe di gioco E le varie aree Ci saranno anche Le Alpi italiane Quindi andiamo a combattere In casa Oltre che poi Il deserto dell'Arabia E anche il fronte occidentale Però bello Vederci un po' così Sul nostro territorio Ora Spero che poi Sia effettivamente Riconoscibile Questo territorio Magari anche con un doppiaggio Particolare E soprattutto Rimarranno anche Tutte le varie classi Che hanno reso famoso Battlefield E rimarrà anche Il multiplayer A 64 giocatori Che non è niente male Non è veramente niente male Caspita Caspita 64 giocatori È veramente Quasi follia Perché Immaginiamo In una mappa Non vasta Sarebbe Tutto Frenetico Invece Siamo abituati Speriamo che sia ancora così Ma immagino di sì Sulle aree E le fantastiche mappe Di Battlefield Un campo aperto Dove puoi fare Quel che vuoi Esatto Esatto E poi naturalmente Potrai controllare Dei carri armati leggeri Carri armati pesanti I Come si chiamano I biplani Delle Dele Dele navi Eccetera eccetera Quindi Non vi preoccupate Che ci sarà Tanto da fare I cavalli Ma ci saranno i cavalli Anche Hai capito Ci saranno i cavalli E spero che siano Belli da controllare Perché io i cavalli Nei videogiochi Non è che li abbia mai amati Più di tanto Quando esce Questo nuovo Battlefield Naturalmente esce Sulle console Di nuova generazione Quando Andrea 21 ottobre 2016 Quindi Faremo il Natale A fare a cazzotti Fra gli FPS Perché Ce li dovremo Giocare tutti Raffaele Per poter dire La nostra In merito Però sappiamo Che sono titoli Che ormai Vedendo un po' Anche le passate stagioni Avranno Una continua Distribuzione Di contenuti extra Che li porterà avanti Per tantissimo tempo Veramente Battlefield 4 In questo È stato veramente Esemplare Una notizia Per chi è Abbonato al servizio EA Access Quindi il servizio Per avere in anteprima Diciamo così I contenuti Saranno in grado Di giocare Battlefield 1 Questo è il nome Ben 5 giorni prima Ovvero il 16 di ottobre Quindi 5 giorni Magari per qualcuno Potrebbe fare la differenza Visto che poi Si parla sempre Di rompere il day one Di avere il gioco prima C'è gente che non può aspettare In questo caso Lo fa in maniera legittima Poi salgono di livello Così quando tu arrivi Al day one Le prendi Come al solito Perché combatti Contro dei mostri a niva Però va bene lo stesso Di contro invece Sono contento Di contro invece Activision Lancerà Call of Duty Infinite Warfare Se non sbaglio L'11 di novembre E chi preordinerà il gioco E questo ha scontentato Dei fan Chi preordinerà il gioco Riceverà anche Gratuitamente Modern Warfare 2 Se non sbaglio Il primo Modern Warfare Call of Duty 4 Modern Warfare Ed è questo L'unico modo per averlo Non verrà messo In commercio successivamente Quindi se lo volete Dovete necessariamente Prendervi la Collector Edition Perché poi anche se Cambiassero idea In corsa Mica te lo dico prima Ah beh Certo 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 Va bene Raffaele Beh mi è piaciuto Sono contento Battlefield Sono contento Che torna Perché abbiamo visto Che rispetto ai Call of Duty Di vari generi Esce a distanza Di molti anni E' una scuola diversa Speriamo che Sempre Dice Giusto? Sempre Dice Speriamo che Motore grafico Che sembra rinnovato Insomma Io gli chiedo una cosa Dice L'ha fatto sempre E con gli altri Battlefield Mi faccia ancora La campagna Perché con Star Wars Ci sarà Certo che ci sarà Ecco perché con Star Wars Lo so che sembra un tormentone Ma la campagna Io ogni tanto La voglio giocare Posso? Grazie La campagna Da quanto leggiamo Sulle prime anteprime Che sono uscite Prenderà Come argomento Il destino Di diverse persone Appunto coinvolte In questa guerra Però al momento Dettagli ulteriori Non ce ne sono Anche Coop Magari Ti immagini Come vecchi Ci vorrebbe Ci vorrebbe Sarà dura Ma vedremo Allora Io volevo dare spazio Un attimino alla chat Perché abbiamo dei commenti Per esempio Pasquale dice Che nel trailer Che vi consiglio Di guardare Gli è sembrato addirittura Di vedere L'aereo del Barone Rosso In Battlefield Non sarebbe male Non sarebbe male E poi ci sono anche I nostri ascoltatori Che dicono Che hanno Visto che Tra i due trailer Sembra che graficamente Il buon Battlefield Sia una spanna Sopra Call of Duty Però lì staremo a vedere Perché i trailer Diciamo che lasciano sempre Il tempo che trova Alessio dice Avrei preferito La seconda guerra mondiale Però dice Anche la prima Va bene Beh ma Alessio Ti posso dire Che così Proprio Mi viene di pancia Stai tranquillo Che se andrà bene Questo Fanno la seconda guerra mondiale E come E poi Poi invece Rugger Lui dice Che è un grande Appassionato Dei giochi Di seconda guerra mondiale E dice Di cercare su youtube I migliori videogiochi Sulla seconda guerra mondiale Sulla seconda guerra mondiale Dove trovate Proprio un video Di Rugger Che fa la sua Top 10 E giusto per rispondere Anche a Rino Invece Rino 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 Eccolo qua Ci chiedeva Per Star Fox Diceva Ma Anzi no Rino Provato nelle opzioni Se c'è la possibilità Di variare il sistema Di controllo Certo Ci ho provato Ma non c'è Io purtroppo Non ho il Pro Controller Quindi non ho potuto provare Con un altro controller Se metti il Pro Controller E non si può Non si può Non si può Perfetto Quindi è fatto apposta Per lavorare In quella In quel senso Anche perché Tornando al discorso Del giro wing Non potresti usarlo Non potresti Ah giusto È vero Non potresti usarlo Esattamente E va bene così Raffaele Abbiamo La Resident Evil In realtà C'era 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 Vabbè Comunque Vado a braccio Perché ragazzi Vai a braccio Vai 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 Allora Per festeggiare 20 anni di Resident Evil Sono stati pubblicati Alcuni video Di intervista Ai creatori Della serie E trovate Su videogiochi Punto com Ma facciamo Il jingle Di Resident Evil Certo Come Se è partito così Facciamolo Va bene Comunque Potete andare A trovare Questi video Che svellano Dei segreti Dei dietro le quinte E per chi è appassionato E vuol spendere Qualche minuto A capire di più Come parte Perché Sono arrivati A fare Alcune scelte Potrebbe fare Felicità Di questi Appassionati Degli zombie Videogiochi.com Ce l'ha Andate indietro Di qualche posto Cercate Appunto Nel campo ricerca Resident Evil Anniversario Ventesimo anniversario E troverete I video E troverete i video Bene 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 Questa è una puntata Un po' Diversa Non abbiamo parlato Delle news Questa settimana Ci sarebbe stato Tanto da dire Anche sulle notizie Perché è stata Una settimana Particolarmente ricca Particolare Però io devo Perché ce l'ho Dentro E non posso Andar via Lasciarvi senza Queste due chicche Uno Sto giocando Ad Uncharted Raffaele E settimana prossima Ne parliamo Andiamo nello specifico Il nostro buon Sebastiano L'ha già Raccontato Dalle sue parole Ma un'altra È che Appena mi sarà Dato l'ok Vi parlerò Di Playstation VR E dei giochi Che abbiamo provato Di Playstation VR Perché non è solo il visore Ne abbiamo provato Sessioni A lungo Di diversi giochi Quindi ragazzi Vi possiamo dire Tutto bene nel dettaglio Ma non possiamo Per adesso Portate pazienza Quindi Vedete Vedete cari ascoltatori Qui c'è la grande differenza Fra chi è importante E chi invece Una chiavica Quindi Andrea è importante Sta giocando ad Uncharted È andato a vedere Playstation VR Va agli eventi E invece la chiavica Sono io Che non faccio mai niente Non ho mai niente Sono qua a farti da spalla E vabbè Ma scusami Ma tu torni Dai paesi del sud Tutte le sere Alle 10 Con i voli E dove vuoi andare Raffaele Eh vabbè Sarai stato in spiaggia Purtroppo Questo è il periodo Allora io volevo Possiamo raccontare Due o tre news Ma dai So che siamo un pochettino lunghi Però ci tenevo Allora ci tenevo A parlare di una cosa Molto spiacevole Che è capitata Proprio a Call of Duty Perché c'è stato A causa di questo Di questa ambientazione Tutto C'è stata una sorta Tra virgolette Di petizione Negativa Su Youtube Dove hanno messo I vari utenti Si sono organizzati Hanno messo Una serie di pollici versi Sul video Tant'è da far totalizzare Molti più Tre volte O quattro volte Di più I pollici versi Rispetto ai pollici in alto Quindi come se Praticamente facesse schifo Questo video Ed è stata proprio Una cosa organizzata Io credo che Questa sia un modo Per Sì Va bene È giusto che i giocatori Facciano pesare La propria La propria opinione Ma trovo che sia Veramente improbabile Che tutti quanti Videogiocatori Siano così scontenti Secondo me Gattacicova Ovvero secondo me Ci sono dentro Tutte quante le communiche Dicono Sì andiamo a fare Il flame Su Call of Duty Sì per fare E quindi fanno il numero Ostruzionismo Esatto Sai cosa che posso dirti Ma ci sta anche questo Mi va bene che facciano Una cosa del genere Perché comunque Non è cattiva Ed è anche legale Io posso No beh certo Sì sì Però è la cosa organizzata Va bene Ma poi tu sai che io Poi di classifiche Me ne intendo un pochino Raffaele Sai cosa ti dico Stai tranquillo Stai tranquillo Che questo fa numeri pazzi E la maggior parte Delle persone Rispetto a questi Si divertirà Parola di Andrea Poi Eravamo rimasti Rimasti a cene Che dovevo offrire Tu una pizza per me Io ti devo una pizza Tu mi devi una pizza Vabbè ma sulle classifiche Call of Duty Non c'è bisogno neanche Di scommettere Leggi invece questa bella news O brutta news Allora Assetto Corsa Sì Devo dirvi anche qualcosa Su Assetto Corsa Quante cose Raffaele Nuova data di uscita Per la versione console Perché a quanto pare È stato posticipato Ricordiamo che Racing Doveva uscire Dopo la precedente Data ritardata Il 3 di giugno Invece uscirà Ad agosto Se non ricordo male Il 26 di agosto Sì 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 Però Raffaele Anche lì Sai quanto ami Racing Game Pazienza Aspettiamo ancora un po' di più Ce l'abbiamo pronto Finito Bene bene L'importante è che sia bello Da giocare C'è da dire che però Tutti questi rinvii Probabilmente denotano O una particolare Diciamo così Cura maniacale Per il dettaglio Di cuno simulazioni Oppure effettivamente Che magari qualche problemuccio La sistemare c'era Comunque vado a trovarli Quelli di cuno Sì simulazione A breve E gli porterò Il vostro messaggio Quindi che Volevate Volevamo a giugno Ma fa niente Darò una pacca sulla spalla Gli dirò Però Perfetto Deve uscire L'importante è che sia bello Da giocare L'importante è quello E poi vediamo se riusciamo a pescare Qualche cos'altro Altrimenti andremo anche Ma sì Chiediamo con un'ultima news Che ci sta bene Stiamo un po' più con i ragazzi Stasera perché Il nostro ritardo È ripagato Il nostro ritardo Sì Ah Sai che Jet Set Radio È diventato retrocompatibile Su Xbox One Questa è una notizia carina Jet Set Radio Sì 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 Nacque su Dreamcast Questo gioco di Writers Che vanno in giro Con i pattini Per la città di Tokyo Nei quartieri A fare i graffiti Seguiti dalla polizia E altre gang Con cui Sfidarsi A ritmo anche di musica E penso che lo giocherò Penso che proverò Almeno a farmi un paio di livelli Me li farò Uno dei primi open world Che siano mai usciti su console Quasi quasi E poi Anche il remaster Di Shadow of the Beast Cioè il remake Di Shadow of the Beast Conterrà l'originale Gioco per Amiga Che era una monnezza Che era veramente No che era impossibile Era difficilissimo Altro che Dark Souls Era veramente Una schipezza Vabbè 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 comunque E ah Ecco ecco Cos'è che volevo Cos'è che volevo dirvi Sempre Racing Sempre Racing Io lo so che tu sei un amante Delle due ruote Delle quattro ruote Delle sei ruote E ti lascio questa notizia Vabbè A quanto pare Anzi a quanto pare Milestone ha appunto Dichiarato che uscirà Con il novantesimo anniversario Dedicato alle Ducati Con il nuovo videogioco Che è creato appunto Sulla base A quanto pare Un po' di ride Dovrebbe prendere Da ride Ci saranno appunto Un numero di Di moto inedite 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 Ah 29 inedite Cioè pensate 29 Ducati inedite E io non so neanche Se le ha fatte Ducati Cioè Sono talmente tante Ed è incredibile Quindi state attenti Perché Dopo Valentino Rossi The Game Che è prossimo All'uscita Arriverà anche Questo Ducati Novantesimo anniversario Milestone è sempre Un martello Eh sì 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 Moto moto E via Anche troppo forse La cosa curiosa Di questa notizia È che lo troverete In download digitale Su Playstation 4 Xbox One E PC Ma nei negozi In versione fisica Sarà un'esclusiva GameStop E parlando di un'altra Esclusiva GameStop Pensate che Deep Deep of the Sea Se non sbaglio Che è il nuovo gioco Di Insomniac Che verrà distribuito Anche in digitale Quello dove c'è Questo sottomarino Che va in giro Un po' così Sarà distribuito Anche lui In esclusiva Nei negozi GameStop Quindi per favorire Diciamo così Il passaggio Nei loro punti vendita E sbaragliare la concorrenza Forte di un marchio Che è globale Comunque Capillare in tutti i paesi In tutti i paesi Assolutamente A questo punto GameStop inizia a fare Anche il publisher Ecco Staremo a vedere Staremo a vedere Come funziona Dai Ma Raffaele Tante cose da dire Settimana prossima Ancora più ricca Perché arriva Nathan Drake Che tra l'altro Vado a giocarci Tra poco Per portare avanti La Storia Poi c'è anche la modalità Multiplayer Ma ci arriveremo Tu che cosa giocherai Raffaele Io sto giocando Ad Halo Non l'avevo ancora finito Sto giocando Ad Halo 5 L'ho ricominciato da zero Perché non mi ricordavo Assolutamente la storia Ragazzi Io devo essere sincero Halo è sempre Halo Io capisco Che in questo capitolo Master Chief Sia stato Un po' messo In disparte Che il suo carattere Non sia stato messo Proprio in primo piano Però mi sono divertito Veramente Veramente Tanto Quindi Grande lode A 343 Industries Perché è proprio Bello da giocare Asterisco finale Lampeggiante Raffaele Questo rumors Di questa nuova Xbox Super mega potente Anche più di un eventuale Playstation 4K Ti puzza Mi puzza Mi puzza alquanto Mi puzza alquanto Secondo me Dobbiamo attenderci Qualche cosa di Meno rivoluzionario Probabilmente Una console Un po' più piccola Un po' più Silenziosa E magari anche Economica Io quello che Mi piacerebbe Però qui Non me la sento Di fare un pronostico Come l'anno scorso Invece tentai di fare Con la retrocompatibilità Però quello che Mi aspetterei Il colpaccio Di Microsoft Sarebbe Un Xbox One Nuova Rivisitata Ottimizzata A un prezzo Di 299 dollari Quindi puntare Sul prezzo Ma non Un hardware Non ancora Compatto Non ancora Non ancora Quindi spingere 299 dollari Per riuscire a recuperare Il terreno perduto Verso Playstation C'è da dire che Io personalmente Mi auguro Che al prossimo E3 Ci sia qualcosa Di interessante Sul fronte Xbox Perché servirebbe Contrastare L'eventuale Playstation VR L'eventuale Salto avanti A livello Hardware Di questa Playstation 4K Perché sai poi Raffaele Il gap dopo È difficile da colmare Lo so Il gap è difficile Da colmare Ma ricordati Che da direttive Di Sony Quindi non da altri Da direttive di Sony Gli sviluppatori Devono comunque Mantenere come piattaforma Di base Per il funzionamento Dei giochi Il Playstation 4 Normale Certo E quindi a quel punto È molto alla portata Di Xbox One Certo sì Con il solito Cosa di risoluzione Eccetera eccetera Però alla fine È un gioco Che riuscirebbe A essere portato Come lo sono stati Fatti gli altri Fino oggi Vediamo cosa succede Raffaele È arrivato il momento Di chiudere È arrivato il momento Di chiudere Grazie ragazzi Una puntata da tre quarti D'ora Dopo una giornata così Davvero è una prova Di forza Una prova di forza Motorsport 6 Apex Da ricordare Per i giocatori pc Perché è disponibile Finalmente In versione Gratuita Potete scaricarlo Su pc Su pc Ma ragazzi Forza Motorsport 6 Apex E quindi Se avete un bel pc Anche se siamo su console generation Ricordiamo che siamo amici E vi vogliamo bene Ci vogliamo bene Perché ci piacciono i videogames E a volte vi invidiamo pure Perché i giochi costano di meno Non li invidio sempre Quando devo spendere Per comprare le schede video Ma quella è un'altra storia Ragazzi grazie Andiamo a salutarvi Ricordandovi che forse Il joypad non cambia la vita Oh è il brano di chiusura Ma di certo La dolcisce E il brano di chiusura qual è? Te lo dico fra un istante Vado a recuperarlo Era selezionato Bravo Il brano di chiusura Come al solito Ci penso io Andrea Selezionato da Pierluigi Bellini Che vi ricordiamo Play Asia Ci porta avanti Il discorso di Play Asia Per tutte le importazioni Le chicche che arrivano Dal Giappone Il brano è Massive Explosion Tratto da Dissidia Final Fantasy Arcade Non il miglior Final Fantasy Non il miglior Final Fantasy Ma uno dei tanti Che sono usciti Va bene Ripacciamo la frase Comunque È sempre la stessa Perché deve diventare un martello E vi rompe un po' le scatole Ma è così Un saluto a tutti Ricordandovi che forse Il joypad non cambia la vita Ma di certo La dolcisce E quindi Raffaele Giocate Giocate E giocate E giocate ancora un po' E giocate ancora Perché non giochiamo? Ma perché non giochiamo? Io vado a giocare Parola d'onore Io vado a dormire però Perché sono un pochettino star Vabbè io dopo E noi comunque Ci risentiamo Settimana prossima Come al solito Alle 22 e 30 Ciao 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 Ciao